Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale La Colia Artificiale, in cui parliamo di dati e intelligenza artificiale. Io sono Caterina e oggi vi presenterò appunto il mio canale. Per iniziare, che cosa sono i dati? I dati sono la qualunque cosa che può essere registrata, misurata. Possono essere macchine che ci sanno in una strada, numero di biscotti che mangio a colazione, gatti che vivono in questa casa. L'intelligenza artificiale ci permette di rispondere a delle domande, esplorando appunto dati, per poi estrarne informazioni, un'informazione leggibile che può essere poi utilizzata. Facciamo un esempio. Possiamo chiederci che temperatura c'è oggi a Lecce. Lo che facciamo è esplorare dati meteorologici e prendere la temperatura. Ovviamente questa è una domanda semplice e potrei anche svolgerla senza utilizzo di macchine e computer strani, no? Ma se la domanda è che temperatura c'è oggi in, non solo a Lecce, ma in tutte le città del mondo? Che sono tante. I dati sono molti di più e abbiamo bisogno di intelligenza artificiale che ci permette di estrarre questa informazione per ogni città del mondo e ci permette di farlo in maniera veloce, automatizzata, cioè non solo recupero le temperature di oggi, ma posso recuperare la temperatura anche di domani e anche di dopodomani e reduco l'errore umano. Immaginate che trascrive tutte le temperature che ci sono oggi nelle città del mondo, ovviamente l'errore dopo un paio di numeri vari sarebbe molto alto. Ma appunto le domande possono essere ancora più complesse. Se per esempio pioverà oggi a Lecce, certo se andiamo sul sito lo vediamo, però per calcolare questa possibilità di pioggia bisogna prendere in considerazione tutti i dati meteorologici più previsioni passate in modo tale che ci siano dei modelli matematici che ci permettono di predire appunto l'informazione se oggi pioverà o meno. Perfetto. Quindi immaginate che le domande che si possono fare possono essere di ogni. Vi parlerò appunto delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, come è integrata e come noi usiamo l'intelligenza artificiale senza che ce ne rendiamo conto e anche di semplicemente di informazioni interessanti che possono riguardare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra geografia. Come possiamo avere delle informazioni interessanti dall'utilizzo di dati che apparentemente sono impossibili da leggere. Quindi ragazzi e ragazze, se vi piace l'idea iscrivetevi al canale, passate questo canale a qualcuno che pensiate possa essere interessato, attivate la campanella se volete ricevere la notifica di quando ci sarà un nuovo video. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!